Il Teramo non oltre il pareggio contro la Roma City finisce 1-1 al Savini di Notaresco, ma è un pareggio che accontenta i laziali meno il diavolo che voleva i tre punti. Teramo in difficoltà nel primo tempo, poco concreto in attacco e paga un infortunio difensivo. La palla rimbalza male, inganna il portiere e al decimo minuto Gelonese ne approfitta e porta vuota. Deposita in rete e porta in vantaggio i suoi. Immediata però la reazione dei biancorossi, che un minuto dopo mancano il pari, prima con Degidio e poi con Galesio, salva sulla linea di porta un difensore dei laziali. La squadra di Maurizzi non crea occasioni nel corso del primo tempo, ma difende con caparbietà il vantaggio. Il diavolo si riporta in avanti alla ricerca del pari. Prova alla mezz'ora con Pavone in contropiede, che viene chiuso da Mattei al trentasesimo. Due occasioni per il diavolo, prima il colpo di testa di Degidio, di un soffio fuori. E poi menna a non trovare lo specchio della porta. Nulla da fare, si chiude 1-0 la prima frazione. Nella ripresa la gara riserva subito due emozioni, una per parte. Al cinquantesimo il tiro di Pellegrini sfiora l'incrocio per la Roma City. Sul capovolgimento al cinquantunesimo Pavone penetra in area al tiro sopra la traversa. Gli animi si accendono in campo e al ventesimo Pomante richiama Galesio, un galesio nervoso, e butta dentro Thurè. Le cose cambiano. Un Teramo ora volenteroso continua a spingere sull'acceleratore. Al ventiduesimo trova il meritato pareggio con Pietrantonio di testa. Altri due cambi poi ci sono per il Teramo, che continua a spingere sull'acceleratore con tutte le energie che ha in corpo. All'ottantaquattresimo Sanseverino da posizione favorevole spara alto. All'ottantottesimo il Teramo rischia però con Piccioni, che calcia fuori da ottima posizione. Esordio anche per Bustos nel finale, ma il risultato non cambia. Un pareggio, forse anche giusto alla fine, che accontenta di più la squadra di Maurizzi, ma lascia un po' di rammarico ai Biancorossi per le occasioni non sfruttate. Domenica trasferta per i Biancorossi a Castelfidardo.